I persiani sono un popolo che abita l'Iran, un paese situato nell'Asia sud-occidentale. La loro storia è lunga e ricca, e risale a oltre 3.000 anni fa. I primi persiani erano un gruppo di pastori nomadi che vivevano nelle steppe dell'Asia centrale. Nel VII secolo anno corrente, il re Ciro il Grande unificò le tribù persiane e fondò l'impero Achemenide, uno dei più grandi imperi della storia. L'impero Achemenide si estendeva dall'Egitto all'India e comprendeva un'ampia varietà di popoli e culture. Nel IV secolo anno corrente, l'impero Achemenide fu conquistato da Alessandro Magno. Dopo la morte di Alessandro, l'impero si divise in diversi regni minori. Nel III secolo anno corrente, i parti fondarono un nuovo impero, l'impero Partico, che durò per oltre 400 anni. Nel III secolo dici, i romani conquistarono l'impero Partico. Nel VI secolo dici, l'impero persiano fu conquistato dagli Arabi, che introdussero l'Islam nel paese. Nel XVI secolo, i Safavidi fondarono un nuovo impero persiano, che durò per oltre 200 anni. I Safavidi furono noti per la loro tolleranza religiosa e per la loro promozione dell'arte e della cultura. Nel XVIII secolo, i Cagliari sostituirono i Safavidi come dinastia regnante in Persia. I Cagliari furono responsabili dell'unificazione del paese e della sua modernizzazione. Nel XX secolo, la Persia fu governata dalla dinastia Palavi. Nel 1979, una rivoluzione islamica rovesciò la monarchia e instaurò la Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi, i persiani sono un popolo di circa 80 milioni di persone, che vivono principalmente in Iran. Sono un popolo orgoglioso e ospitale, con una ricca cultura e una storia millenaria. La cultura persiana. La cultura persiana è una delle più antiche e raffinate del mondo. È caratterizzata da una forte tradizione artistica, letteraria e musicale. L'arte persiana è ricca di colori e di motivi decorativi. I persiani sono maestri nella lavorazione della ceramica, della tappezzeria e del mosaico. La letteratura persiana è una delle più importanti del mondo islamico. Tra i capolavori della letteratura persiana si possono citare il poema epico Shanameh, scritto da Ferdosi nel X secolo, e la raccolta di poesie Rubaiyat, scritta da Omar Khayyam nel XII secolo. La musica persiana è caratterizzata da melodie fluide e da testi poetici. La musica persiana è spesso usata per accompagnare le cerimonie religiose e le festività. I persiani oggi. I persiani di oggi sono un popolo che sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti. La rivoluzione islamica del 1979 ha avuto un impatto profondo sulla società persiana, e il paese è ancora in fase di trasformazione. Nonostante le sfide che affrontano, i persiani sono un popolo resiliente e determinato. Sono fieri della loro storia e della loro cultura, e sono impegnati a costruire un futuro migliore per il loro paese. Conclusione. I persiani sono un popolo con una ricca storia e una cultura affascinante. La loro storia risale a oltre 3.000 anni fa, e hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo del mondo. Oggi, i persiani sono un popolo in continua evoluzione, che sta cercando di trovare il proprio posto nel mondo moderno. Grazie a tutti.